Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova live di The Last of Us parte 2 ragazzi. Oggi, come sono mancato per qualche giorno ragazzi, mi dispiace per troppo per essere mancato alcuni giorni di The Last of Us. Infatti oggi incominciamo prima a giocare ragazzi. Direi di continuare ragazzi con la storia. Ci eravamo lasciati a Ilcrest ovviamente, dove stavamo ammazzando alcuni del VLF, che sarebbe questa compagnia di persone che fanno la guerra con noi e con le Iene, che non si sa chi sono. Però, vabbè. Comunque ragazzi, io direi subito di continuare e di andare avanti con la storia. Come sapete ragazzi, non potevo non dirvelo, ma ragazzi, devo dirvelo purtroppo, anche se siamo in una live, The Last of Us parte 2 sono riusciti diamanti su GTA 5 nel colpo al casino. Finalmente ragazzi, io avevo fatto a San Valentino, tra l'altro perché a San Valentino io, quando sono usciti diamanti in GTA, io avevo trovato i contenuti del cavo, perché avevo la sala giochi senza colpi. Cioè, perché avevo appena fatto un colpo quando erano usciti diamanti, quindi avevo fatto un colpo a San Valentino. E sono riusciti ragazzi, quindi vedrò di annullare il colpo con l'Ester e ragazzi direi che possiamo. E tra l'altro devo ancora caricare un video sul colpo di Lengotti, perfetto, non perfettissimo, però perfetto. E niente raga, verrà caricato sicuramente entro domani, perché io domani devo partire e non so se tornerò, quindi... Credo di aver sentito qualcosa. Vediamo che succede. Vai, bello. Controllato, niente. Dai, bello. Rivoltsate ogni singolo edificio. Qualcuno nei paraggi. Veniva da quella direzione. Quella ha un po' Matti, muori, muori. Muori, porca puttana. Ragazzi, provo a farlo stealth adesso. Ve lo giuro, ragazzi, ve lo dico che veramente lo faccio stealth, sto giro. Sto giro lo faccio stealth perché mi sono rotto. Di fare sempre tutte le cose aggressive e dopo di sprecare munizioni, mi sono cadute le cuffie. Raga, scusatemi. Ehm, cazzo. Cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Vaca, vaca. Vaca. Cazzo, cazzo, cazzo. Forse ha sentito qualcosa. Hai sentito qualcosa? Diamine, raga. Ma mi prendo sempre colpi in testa, povero me. Raga, vedi? Cioè, la devil inizia sempre così. Con io che muoio. Cioè, sempre, cazzo. Sempre, ragazzi. Sempre succede, ragazzi. Indominate che cosa? Che vado e muoio, cazzo. E ovviamente non va bene. Vedere, ragazzi, di continuare. Che succede? Hai fiutato qualcosa, bello? No, l'ho lisciata. Scusate. Oh! Scusate. Scusate. No dov'è? Di prima? Ah che male ragazzi Che male Ah se avessi ancora quel proiettile Questo è? Ah 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 eh sono messo avanziamo basta pur calpac cioè ragazzi io non ci credo allora io direi di fare tipo una roba tipo così ok e quei due li abbiamo tolti dalla palda ragazzi perché ero lì ok mazzato ok ok non ballare bruce ora sei fottuto continuami fanculo ok stavo facendo no no ok Grazie. Ok raga Scusatemi Allora Ah da te Quindi io ti dovrei ammazzare adesso Forza non ha punizioni Sì vado Oh dai Ah è vero raga Scusate Aiuto i comandi Me ne dimentico sempre su questo gioco i comandi Eh cazzo però Raga Scusate se continuo a morire però Scusate veramente raga scusatemi Ok Kai ammazzata più vicini no cazzo vero la prendila alle spalle cazzo mi sono spaventato io sto gioco non so circa c'è veramente riga scusatevi vediamo cosa trovo qua no ho sbagliato ovviamente io sempre che muoio cioè è proprio cioè non lo so vabbè no 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 seccato no 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 dai ma questo è da tutti i colpi vabbè ovviamente sono davanti a lui cavolo mica ci voleva tanto a ditarlo con il colpo prendiamo questo ah stanno tutti lì ok ah dentro quel passato ci stanno due col piede quello grosso c'è del fucile quello lungo c'è presente dovete c'è aspettate quello ecco questo questo qua tipo il fucile da cecchino raga c'è stato un po' 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 questo è un po' No, cazzo è riuscito Morre, c'è era lei, diamo un'occhiata sono morto, evviva, bella bella, raga, gg loro si conoscono, ragazzi stupe Bacchia, bacchia, bacchia! Ok... Bacchia, bacchia, bacchia! Ok... Sì. Sì, vanno. Ragazzi sono finiti Aviva Potrebbe essermi utile Per sordire Questa ha 4 colpi E' quello che ha più colpi Quindi ragazzi Io direi che possiamo andare avanti Bisogna andare verso il fumo Capito Era verso di qua Che dovevamo andare Qua secondo me c'è un po' di roba Niente No a zero Magari c'è l'alcol Quello non è l'alcol Magari No Sono una bottiglia Vediamo cosa c'è ragazzi Dello scotch Molto molto bene Qua non si può perire niente Forse qua si Un po' di Una bottiglia d'acqua Munizioni Punto molto bene Allora Io direi ragazzi che c'è più bisogno di medikit che di molotov sinceramente io ho paura no non c'è nessuno ok aspettate che ricrego tutte le armi no questa non si ricarica niente raga mi sa che abbiamo tutte le armi cariche boh magari c'ho detto c'era qualcosa c'era un medikit che ne ho tra ragazzi bene c'era qualcosa non torna vediamo che sta succedendo l'hanno trovato intercetti tutto ok non c'è nulla ha trovato qualcosa senti qualcosa bello no 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 questo l'hanno fatto anche loro come non lo posso fare io andiamo in sta cosa forse si può fare qualcosa ripagni c'è niente zero vai di qua mi è ammazzato bella raga comunque sta andando bene ho fatto tre adesho cioè tipo due adesho fatto su due cioè non c'è niente no no novella ama alla recinzione No, no, no. No, no, no. Voglio ammazzarli, ragazzi. Dai. Oh. Vieni. Vai, ragazzi, spara un colpo. Voglio ammazzarli. Cosa fanno questi? Guarda, non so che sto sperando. Tutti erami scarichi. Arrivederci. Grazie per il passaggio. Grazie mille. Volevo ammazzarli. Dobbiamo stanarla! Vai, vai, vai! Cazzo, togliela di mezzo! Basta! Cazzo. Basta. No dai volevo prenderla Questa c'è porca vacca C'è tutta aggressiva raga sto facendo Vai 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 Dai cazzo ti mori Questa mi sa che fa bidon Un'intrusa qui Vai vai non deve scappare Non possiamo scappare avvantiamo E tu che cosa ci fai qui? Come potevo lasciarvi da sole? Jesse Dov'è Dina? È al sicuro È solo malata E che cosa? Sta bene Vediamoci È andata di là Cazzo sono tanti Ti fa male la gamba? No Non è niente I tuoi amici mi hanno attaccato Senza neanche ammissare Dimmi che non eri da solo Risparmi la predica Sei un collone lo sai vero? Sì Sì Ok Vedi il funone È questo il piano? Dobbiamo andarcene da qui Ok Sei pronta? Sì Sì Ehi Usa la testa Ok Che cazzo stiamo cercando? Oh cazzo Ci servono più guardia sulle muri Si stanno attaccando Da giù Blocchiamola Amir È andato A destra Come on Come on Ellie Non le chiamo Andiamo Sali Ok È pronto Di più Jesse portaci via da qui Non lo so comando Jesse Cazzo Attento Alle gomme Non lo so comando Non lo so comando Chi Sì, sì, sì. Ah! Tutto ok? Alla grande. Ok. Siamo al sicuro. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Ok. Dina! Oh mio Dio. Jesse. Ciao, Dina. Stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. È meglio entrare. Sì, ok. Vieni. Che no. Come hai superato Maria? Sono un ninja. Un po' gelosa. Ma ci starebbe anche... Cioè, tutti si sentirebbero un po' esclusi. C'erano e si sentirebbero un po' escluso. Sperarei anche il mio compleanno, se non ci fosse lei a ricordarmelo. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok, che succede? Niente. Perché? Ti vedo assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Ok. Dove sei dommi? Dommi. Sì, se sapessi magari dove sei. Ah, sei lì. Sicuro? Mi sento buono. Vedi il cartello? Quello rosso. Prova a centrarlo. È perfetto per stannarli dai nascondigli. Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. È perfetto. Perfetto. Perfetto la strada. Perfetto. Il rumore li attrae. Beh, se è una tuglia. Eliminiamoli. Bene così. Ancora due. Merda. Preso. Mi piace. Perfetto. 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 Sono finiti. Ce ne sono altre di qua, se vuoi continuare. Ok. Da dove arrivano? Tipo, con la persona. ... attraversano questa zona in inverno. E qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. Ah, e come lo spieghi? Beh, forse quando la pressione barometrica raggiunge una temperatura... Ah, che cazzo ne so. Controlla il capanno. Signore, stiamo scendendo. Oh, come è che si faceva così? Dov'è che stavo? Oh. C'è un fenomeno. Mi conto tre. Questa è un fenomeno. Dov'è che stanno, Tommy? Di qua, tipo? Ah, sto accederà a uno lì, non l'avevo visto. Stupito. Mi sembra sicuro. Ce ne saranno altri di qua. Di vicino allo skillift? Guarda giù in fondo. Sotto la cabina. Vicino alla torre. Visto? Stai migliorando. Stai migliorando? Ben fatto. Ben fatto. Ben fatto. Ben fatto. Ce ne sono degli altri? ditemi se voi li vedete ah si può anche sparare da così la cosa che vorrei capire dove sono ah eccolo uno l'ho beccato rendimelo ehi grazie davvero ci volevo proprio certo prima le signore forse non dovrei dirtelo ma joel è preoccupato per te non ha niente di cui preoccuparsi mi sono convinto ma se non gli parli continuerà a pensare che qualcosa non va gli parli non basta un saluto ogni tanto lo sai ok ci proverò è questo oh non è questo ah no ma si può mandare di qua i colpi che ho sentito erano vostri ah qualche vagabondo egli ha provato il mio mirino ti è piaciuta? si non è male ho visto che non è ancora cambiata le corde non pensavo che servisse beh si sei te ne troverò di nuove c'è un negozio di musica qui vicino avranno anche delle chitarre e poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona resta io di qua ti va piccola? certo meglio filare allora sicuro di non voler venire su vai mi sta aspettando ok andiamo bene ma credo fosse questo tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? qualcuno sul crinale tu? oh beh due runner in una casa già si mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo ma persino ho suggerito di mandarti fuori in coppia secondo me sei ancora troppo giovane sono più in gamba di quasi tutti gli altri e ho molta più esperienza di parecchie delle nuove regole ascolta se ti senti pronta mi fido ok grazie fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi giusto per prendere la mano d'accordo ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre si io e Tommy abbiamo trovato qualche coppia in una scuola l'altro giorno ti sono piaciuti? insomma non è esattamente il mio genere quella Daniela Star è piuttosto è selvaggia se penso a come riduce il capitano Ryan in duello si beh lui se l'era cercata mi ha stupito la scena della fuga si buffo il negozio di musica è più avanti dobbiamo lasciare i cavalli si d'accordo e i scenderà non combinare guai il negozio di musica si lo vedo serve una mano? ce la faccio cazzo una volta si passava nuota ok quindi se la senti possiamo tagliare per l'hotel ci sto merda vieni a vedere qui pensi di riuscire a passarci? ma eh posso provare attenta però certo ci sono un momento bene adesso raga jumpscare costrì cioè costretto raga ti pare che non c'è un jumpscare no? ma sto cercando si potrebbe tipo spostare questo però non so minimamente come via da dove sono passato qua qua non c'è niente qua non c'è niente ah però si può creare la porta ah ciao ciao non male eh no sei troppo secca mangia di più di niente allora giallo spostiamo sto coso è lì qui forse so da dove passare ma ci sono le spore metti la maschera ah devo proprio siamo soli e se incontriamo qualcuno ok d'accordo dobbiamo usare la testa peccola se non indossi la maschera rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti non sbaglio mai non hai detto a nessun altro vero a jessie o dina certo che no ok bene sei mai stato qui no solo in strada inizio a pensare che sia stato un errore forse mi hanno sparato da parecchio da quando risale l'ultima pattuglia qui? non saprei è uno dei nostri le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso questo era giusto forse era di passaggio è lei vieni siamo di pattuglia ok facciamoli fuori facciamoli 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Salteno! Oh! 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 Dallena, Dano! Sì! Oh Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ma non muore mai sto cogo qua no forza ah cazzo ci è mancato poco non ce l'abbiamo fatta vero anche questo stai bene? a parte l'età che avanza niente che una notte di sonno non possa guarire voglio andarmene da qui che stai facendo? e se ci fossero due blotter ad apprenderci? andrà tutto bene niente spore una bella battaglia vero? non si vedono spesso blotter qui in giro si jesse e dina non ci crederanno quando lo racconteremo che sta succedendo tra quei due? si tranquillano vero? eh più o meno perché? ho notato come jesse parla di te no jesse e io siamo solo amici ehi 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 guarda che ho chiudo per queste cose stavolta sbagli vedremo non illudarti non illudarti vedi cosa c'è? si ok ok ehi grazie si ehi Joel eh sono loro vero? la coppia è fuggita l'anno scorso hai ragione jackson è un piccolo paradiso ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora volevamo salvare vite avevamo le migliori intenzioni dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti e non morta e ci hanno morso abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci dite alle nostre famiglie che ci dispiace Adam e Sidney attra�are attraverso per cui aspettare non troviamo Tomi poi riportare il mio corpo a jackson quando mi hai portato via dell'ospedale che ce n'erano a decine sì così dicevano non ho mai incontrato nessun altro scusate sei sicuro questo è il momento abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere luce avevo così tante domande da fare per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi perché hanno fatto tutti i loro esami e quando ho capito che erano inutili allora ho deciso chi ti dice che fossero inutili forse se gli avessi lasciato il tempo avrebbero scoperto qualcosa non esiste nessuna non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro capisco che sia difficile da accettare anche per me è difficile ma è così e adesso li riporteremo a delle loro famiglie vuoi dell'altro da ribancare? no bene una storia triste non c'è nulla che sia E' un tipo opposto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? Eh, in realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Tra quelli avano scorte e medicina. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non puoi almeno aspettare che i gesti si svegli. Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Allora, se seguo la root file, dovrei arrivare all'ospedale. Segui la root file. Devo trovare Nora. E scoprire dove è andata Abby. Con calma. Devo passare. Un'altra porta di qua. Un'altra porta di qua. Ok, mo... Oh! che ci sono in quell'ospedale. Ok, bene così. Ok, bene così. Ok, bene così. Ok, bene così. Ok. 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 Ah, merda. Si può andare da lì, ragazzi, l'ho capito, però voglio anche un po' esplorare magari qua in giro per vedere cosa c'è. Non è che tipo posso spaccare? Niente, qua non c'è tantissimo, mi sa che di qua non si può esplorare niente, vediamo magari se si può esplorare qualcosa. Non posso andare di qua magari ad esplorare dentro quel posto. No ragazzi, mi sa che non è possibile, quindi ragazzi mi sa che andrà di qua. Chiuso. Qua ragazzi mi sa che non c'è tanto... Ah, questo... Ah. 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 Se io non me lo dobbiamo far uscire da qua Ecco lì c'è quello per farlo Lì c'è un item Che vorrei prendere Siamo tipo Oh mi sa che è lì Vorrei però salire lì sopra Ok Un'acqua e due munizioni Oh quante munizioni Questo raga è stato molto molto utile Bopo se ma guardia quindi raga io non so che cosa fare perchè comunque raga secondo me non funziona così però potrebbe essere utile ok ho capito ragazzi ho capito ho capito forse credo che sia così che si faccia aspettate ragazze aspettate un attimo no non ci credo eh bisogna avere un tempismo ragazzi molto ok ho capito come si fa ragazzi però serve un tempismo molto cosa che ah no non ci credo raga non ci no io non ah no però sto stonks perchè si 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 ah no era così che si doveva fare raga io voglio provare tipo a bloccare il garage tipo con questo e poi direi di fare così e di fare così boh in caso di qualcuno magari dovesse passare a pro tutte le parti no vabbè non ne sono idea molto utile per l'orda credo che bisogna andare di qua ecco l'ospedale merda sembrava più vicino raga aspettate ma lì se quel punto che è si qualcosa di utile munizioni buh vabbè comunque andiamo fuori ok ragazzi dovevamo per forza passare dentro pensavo che possiamo anche passare da un'altra parte ale ale proprio la mentalità di un.. c'è ebiba mi muto sì tanto si sopravvivo tranquillo ale sopravvivi sicuramente guarda a parte scherzi ma io come faccio ah si capito ma che bene signore ok e una ok ragazzi siamo arrivati dove dovevamo arrivare ok andiamo di qua credo che bisogna andare di qua quindi apriamo questa porta che puzza grandioso stalker cazzo sopravvivi devo trovare un'uscita devo trovare un'uscita sono stronti essenziosi a 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 bella domanda me lo chiederai anche io se fossi in te non c'è niente ragazzi per ora qua vediamo qua che c'è vediamo 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 chi ci sta qua ok una casetta dai dimmi che c'hai qualcosa no che schifo questi c'hanno sempre qualcosa la l'apetà dai no ah 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 Oh Oh Okay ma bene pochissima vita quindi mi sa che mi farà un medico ok quante sparen? sarà un blader questo non è che io posso salire non posso arrivare in strada da qui devo rientrare veicolo... ah no c'è un... ok devo tornare in strada io ho paura ragazzi che ci sia un blader qua ci sono veramente troppe spore per essere qualcosa di normale ma l'ho ma l'ho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. 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 Tiratemi fuori da qui. Ok, dove cazzo sono finita? Ok. Io sono qui e l'ospedale è là. Tagliamo dal parco. Ok. Porca la battretola ragazzi. Che minchia che spavento. Che cazzo? Che cazzo? Ah, queste ragazzi. Mi sa che sono le iene. Queste ragazzi. Perché vedi che usano le frecce? Questi. Mi sono molto di iene. Ma che cazzo? Minchia, Vincenzo. Aiuto. Che cazzo? Che cazzo? Quai… Ch всё. Cazzo e assiare! ragazzo ragazzo ero quasi voglio ammazzarle con le iene assolutamente anche se muoio cento volte però ragazzi assolutamente vabbè vabbè ma sono morto ragazze inutile quella poteva ammazzarla però cazzo perché questi sono in quattro questi comunicano con i versi a questa cosa strana a La forza troppo! Il diavolo! E mentre che voi non mi sentivate stavo scrivendo ragazzi allora non so cosa fare ragazzi sono capoplazza tanto vorrei tirarselo e dai le due fritche grazie 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 a tutti 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 E infatti Grazie a tutti 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 Dove sono Grazie a tutti No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Non muoverti. ah ok adesso ok 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 right ok non ci credo mi ha tirato una cavolo di freccia non ci credo vabbè non dico niente va bene va bene va bene cosa? va bene va bene da un misto macete dov'è l'arma ma anche io so che ci sei cazzo no no aspetta sai cosa fare raga io la voglio no ok no no riavia scontro si cazzo quella lì ragazzi la voglio raga io quella lì la voglio riavia lo scontro piuttosto di averla io non volevo libera porca droga no 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 arriva no no ah ah di sangue la mente sono morta cazzo non deve morire cazzo sennò succede non voglio marco ci stanno attaccando da lì veniva da quella direzione cosa? non tronza ah 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 che è l'osso arriva Cioè è caduta la doppietta esattamente dove non doveva cadere Cioè serio? Sì 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 Non ci credo raga ce l'avevo fatta Non ci credo raga Non ci credo raga Sì 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 No raga io non è stato un altro combattimento però Vorrei sapere dove cazzo sono Dove cazzo sono? 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 Dove cazzo è stato un po' di più dai che palle non ho abbastanza panni non so dove andare ragazzi ho idea che si vada di qua non so dove andare non so dove andare non so dove andare qua benissimo dobbiamo andare di qua di qua c'è un muro invisibile non posso passare c'è un muro invisibile non posso passare porca la vacca porca vacca pezzo di merda il toio stronzo ormai io praticamente gioco solo di armi a diciamo perché c'è solo darmi a corpo perché comunque di munizioni non c'erano tante quindi tendo spesso tranne molto poche questa uno mi servirebbe farlo perché fidatevi può essere utile ok Interessante. 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 ti conviene esserci ora boh andamili qua è uguale qua c'è sempre qualcosa infatti due pillole l'ho rischiato in modo strano non mi stanno ecco questo non si trova da tutte le parti è stato un attimo è stato un attimo è stato un attimo è stato un attimo ok calma ricontrolliamo è stato un attimo 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 grazie a tutti 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 grazie 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 ci erano lasciati dopo aver saltato giu ed essere andati da quella scala beh Stiamo andando dalla parte sbagliata, me ne sono appena accorto. Stiamo andando dalla parte sbagliata. 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 vabbè mi faccio ammazzare ammazzatemi ok mi sono fatto ammazzare adesso perché volevo fare un'altra cosa volevo lanciargli una molotov però a corso mi hanno visto perché perché di sì ho visto qualcosa ci sono ecco veniva da lì c'è qualcuno qui è finita è finita presa c'è semmai tu non uscirai viva da qua no non ci credo non ci credo ragazzi non mi sono riuscito a muovere quando me l'ha lanciata cioè non è che mi sono riuscito a rastannare con me non ci credo 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 raga avrebbe tutto benissimo ammazzarlo comunque non è stata malissimo come tattica non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo L'ho trovata! Qui o qui? L'ho aperta! Marca puttana! Io no! Che arma ha quello? Oh, porca troia! Tu che mi dici? Ma che? Oh, per favore! No, ti prego! Tiens! Parcolo! raga ho provato a risparmiarla pensando che non stesse fingendo e invece alla prossima Grazie. 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 Non gridare. Metti giù quella roba. Ti ricordi di me? Certo. Ti ricordi di me? Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dov'è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu sarai morta. Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro. Aiuto! Un'entrata! Ehi! C'è nessuno! Cosa? Nora! Non sperare di salvarti! Anche tempo! Cosa? Ma.. Ehi! Ja! Armatissima! Progastronto! Cazzo! Ah! Fermati! Vieni! Guarda! 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 No, no, no! Ecco ti! No, 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 aspetta! No, 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 no! Inzietro! Abbassa la pistola! E possiamo ancora sistemare tutta cedazzo! Abbassala, sulle mani! Indietro! Non hai via di scampo! No! Sperma! Oddio, diciamo! Sedettelo! Maschere! Perché la corrente è attiva? Non importa! Troviamo l'intrunda! Spermai! Non? Poi! Spermai! 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 le scusate ragazzi ah mi è venuta un'idea a me non c'è ah lei adesso è infetta ragazzi lei è morta sicuramente lei ormai è infetta raga cioè sicuramente muore no raga non devo attirare l'attenzione dei krieger questo è il problema perché se attivo i krieger però meglio attirare il krieger hey hey fuck you no 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 e 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 grazie e attenzione sparagli ci l'ho fatta raga non ci credo minchia l'ho fatta ok una un 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 vedi qua guarda come si sentono bene gli stronzi lei non sa che io sono immune ma lo saprà prestissimo ragazzi anche perchè io sono immune cioè lei è immune eh signora è qua ciao dove è Abby? stai stai innalando spore tu sei tu sei una luce le luci non esistono più dov'è Abby? tanto morirò in ogni caso quindi perchè dovrei dirtelo? perchè posso essere veloce? o rendere tutto molto doloroso pensa a quello che ha fatto alle persone morte per causa sua ultima occasione non crederò alla mia amica ah ah c'era il tasto per schiacciare signora i signori l'abbiamo ammassata Nora un Alors signore il signore io sono andata il signore signore Sono io Ellie Va tutto bene Cazzo Stai sanguinato Si è nascosta qui In questo acquario Ok Andiamo Ti aiuto a lavarti Le braccia Allora L'ho fatta parlare. Ehi. Non importa. Non voglio perderti. Bene. Doi anni prima. Non voglio perderti. Qua... aspetta. Ma qua è... le luci. Borsone delle luci. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io. Non so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere. E la ragazza... Mi hanno detto che... E se trovassimo lei o per miracolo o qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Il miracolo o qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino... Avreste potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami... Che è successo? Se mi menti ancora una volta... Me ne va. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità... Io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Dimmela in pasta. Ciao. Per creare un vaccino... Ti avrebbero uccisa. Io li ho fermati. Oh mio Dio. Cazzo! Non mi toccare! Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Si atto il giorno 3. Non si... Non si... Live eliminata. Tutto eliminato. Tornato. Come si sente. Come si sente. Tornato. Come si sente. Tornato. Tornato. Questa è un cuore. chassi dina chassi non c'è un senso no adesso non voglio succedere non sono assorali becchiamo che fanno le cose acce mazzo non credo che stia bene mi sa che sta malissimo adesso sta veramente male una brutta notte l'ha passata tutta a vomitare beh potevi svegliarmi è incinta sì ho capito perché siete qui ma lei va riportata indietro ha bisogno di cure e allora riportatela indietro lui è qui per colpa mia magari puoi riportarla tu non si muoverà senza te ciao fa' un culo salviamo domenica l'acquario di cui parlava la ragazza lui non ha ancora trovato e poi lo aspettiamo appostati lì e lasciamo lasciamo dina qui da solo se vuole così ok andiamo a dirle che partiamo ti aspetto all'ingresso bene io perché mi sa che il figlio è suo il figlio è di jessi perché vedi che lei stava insieme a lui fino a nove mesi fa cioè credo che dipende da quanti mesi ha il bambino perché non credo che ce ne abbia anche tanti deve averlo fatto da poco magari lo sapeva già da prima che era incinta no però lui non lo sapeva che lei era incinta quindi secondo me cioè il bambino è di jessi sicuramente è suo perché comunque era l'acquario è vicino al mare deve essere di qua si si resta mai asciutti in questa città ok forza vai ok io direi ragazzi che andiamo avanti grazie speriamo di trovare Tommy all'acquario io mi le ho detto che lo sapevi se è questo tranquilla l'acquario è una base dei luci non credo Nora ha detto che abbia lì vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? no esatto Joel ha avuto un problema con alcune luci ex luce ok merda è bloccata si può tagliare da quel centro con due minuti proviamo proviamo pensi mai che potrebbero tornare a Jackson che vuoi dire? che vuoi dire? che stiamo sfidando i loro uomini nella loro città per quello che hanno fatto questo posto è diverso da Jackson questo posto è diverso da Jackson Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata qui non sanno fare altro che uccidere ma cioè ti hanno sparato a vista no? si è vero da quanto vi non state bene? un paio di giorni appena arrivate ha fatto il culo a una squadra di luci dovevi vederla ci credo lei non si scherda non si non ci credo non ci senti no ... 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 Grazie. Grazie. Ehi, dammi una mano. Di qua. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno. Oggi, hanno iniziato a rodonare tutte le uniti. Dite la tua. Se facciamola, mettiamo le altre guardie. Poi, attacchiamole gli altri. L'ultima volta? Una volta stavate. Non è buono. Siamo tutti nervosi. Hanno già occupato tutta la costa. Finiranno per farci il culo a strisce. Ehm... Abbi fede. Cosa? C'è qualcuno. Con me, forza. Vai, ti guardo le spalle. Ho visto. Qui... Qui... Ammazziamoli! Ammazziamoli! A sinistra! Presa. Rova essa. Sì! Deve essere qui in turno. Eccoti! Wow! Ora va meglio. Questi lupi... ...hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando. I serafini, mi pare. Serafiti. Io ho sempre sentito iene. L'hai mai visti? No. Meglio per te. Cosa sono questi manifesti? Sembrano fumetti. Ma... che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Come te, Inca. Quelli erano tempi d'oro. Come... Uff... Uh... Oh Oh Che stavi dicendo? Prima, riguardo Dina Hai detto che mi parlerà Ora abbiamo Altri problemi Prima o poi C'era dura da Guarda che disastro L'acquario È vicino alla ruota panoramica Beh, speriamo che lo sappia anche Tony Ti tocca nuotare Grazie a tutti Sì Ehi, Quassu! Te la fai a passare da lì? Vediamo. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. Sarei venuto anch'io. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. 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 Sarei venuto anch'io. Ma dove sono? Formazione... Venuto anch'io! Ovvio che sei davanti a me e con il fucile a pompa. io senza munizioni... Io senza munizioni... non è venuto anch'io. Io senza munizioni... ... non deve scappare! Non deve scappare! Non deve scappare! No, non, 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 non. Non vedo niente. 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 Eccoti qua. Non vedo niente. 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 Allora per ora niente, oh ok Gli altri possono restare qui in attesa di uno Ma che cazzo, dobbiamo stare qui mentre un cacchino fa fuori gli altri Io vi sopra La squadra bassa è avanti Porca puttana Ellie Da qui possiamo arrivare al porto No, rubiamo la barca Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui non riusciremo comunque ad arrivare in tempo Ma sta andando da Abby, dobbiamo soltanto seguire Potrebbe essere nei guai Sa badare a se stesso Ma che cazzo Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby Se te ne vai non ti salvo più il culo Ti auguro di farcela Ma dai ma ha fatto tutta sta strada per noi ragazzi Non, non ce ne va Che c'è ne so Ho rimesso a posto il motore Dove vado? Fermati sull'altro lato D'accordo Guardate qui Ho inviato quattro soldati al porto Quattro soldati al porto Grazie a tutti. Ma mi fai salire? Che palle! Vabbè, sono morto. Devo prendermi in pompa, però non sono riuscito. Peccato ragazzi, vabbè. Mi ha messo a posto il motore. Dove vado? Fermati sull'altro lato. D'accordo. Base equi unità che ha il suo inviato, quattro soldati al porto. Ricevuto, Gamma. Informiamo il comando. Restate in attesa di istruzioni. Passo. D'accordo. Che cosa? Guarda la ragazzina! Falla forza! 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 Avviciniamoci! Sì, ricevuto! Ah! Oh! Sì, ricevuto! È corta via degli scappali. Ok Mi ha preferirato Signore Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Credo d'aver visto qualcosa Vado io Allora Oddio Muoverti Raga signori Scampa per un pelo Ragazzi Però dobbiamo assolutamente ammazzarli Signore La brutalità Come ha fatto Arquistriamo il centro Non deve scappare Oddio Ammazzala Ammazzala E ha sparato prima lui Purtroppo Non ci posso fare niente Ragazzi Su questo Ho sparato prima di lui Aveva il pompaio Avevo un fucile A cecchievo Ragazzina Uccidela Mi ha seccato male Intrusa Intrusa è qui Intrusa è qui Intrusa è qui E' scivolata lì dietro Dove andiamo Per lotriamo il centro Scovatelo Eccolo Arquismo Ecco Mi ha preso Sì, 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 sì! rai prendere la barca Ma sapete cosa fa? Dove sei? Ma inizia a correre tu che sei da solo Anche io sono da solo ma vi ho fatto fuori Ed eravate in mille Per favore Per favore Aspettate ragazzi Che c'era un Dove è che sta? Per sbaglio ho preso il macete Però vabbè ragazzi Grazie Grazie Grazie. Grazie. Oh no, ma devo scendere? Oh no, però lì c'è un... Non c'è niente scerzi? Ah, adesso... Ci siamo? No, mi sa che devo andare per forza di qua. No, non c'è niente scerzi. Scherziamo. No, non c'è niente scerzi. No, non c'è niente scerzi. Cazzo! C'è un'altra marca! Cazzo! 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 Ah, porca Troya! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eppure è l'infettica. Però, cioè, ragazzi, dai, l'infettica. No! 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 Grazie a tutti. 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 Gabby, dove sei? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cos'è questa roba? Grazie a tutti. Dove cazzo sei? Merda. Adesso mi trovo uno dentro. Immaginate ragazzi che paura. Io come faccio? Ah. Sì, ma... Quindi io... come faccio? 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 Che brutta... Ah beh.. Dio.. Cosa è successo qui? Vu.. Voci! 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 Voi! Allora resta. Torni indietro. Fanculo Owen. Mani in alto. Dov'è è? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dove è andata. E se poi ci uccide? Si accetti di parlare, ti uccide. Puoi non uscire, ti me interessa lei. Ok. Cazzate. Ok. Questi c'erano quando è morto Joel Oh, questo! Dimmi dov'è eri Mi cazzo è! No! No! Ah dai! Venni! 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 Ehi! Ehi! Va tutto bene! Forza andiamo! Che brutalità! Da qua! Va tutto bene! No raga questa è brutalità cazzo! Questa è brutalità! No 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 raga! Non sapevo che fosse incinta! Cazzo! Non ci credo! No! No! Ehi adesso veramente ha raggiunto una delle sue più... Cazzate! Anche perché lei è incinta! E se Abby venisse a scoprire che lei l'hanno ammazzata... Non lo so perché Abby c'era! Cazzo è un bel bel giro! Si abbia un bel giro! Ehm bello! Ehm ah... Ehm ah ok... Ehm ah ok... Ehm ah ok... Ehm ah eh ok.. Ehm ah... Non so veramente che dire ragazzi Non so veramente che cosa dire Non so, non ho parole sinceramente Ellie ha raggiunto una delle sue Ha veramente esagerato Ellie Ha perso il controllo in un modo Quindi non avrebbe dovuto perderlo secondo me Anche perché Ha ammazzato due persone che Avrebbe potuto benissimo fermare Magari uno pure estordirlo Invece lei l'ha picchiato Al posto di magari estordirlo con la pistola L'ha sparato Diciamo che ragazzi Ha perso un po' il controllo Però non va bene Era pure incinta quella là Cioè è come se avesse ammazzato due persone È come se avesse ammazzato due persone E di cui una non se lo meritava E vabbè Niente raga Secondo me Ellie ha raggiunto l'apice Non so cosa dire sinceramente Ha fatto una cosa veramente brutta Cioè finché ammazzi i lupi Si dai Tra lo cazzo Ma c'erano ammazzare una persona che è incinta Anche se sia il tuo peggior nemico Che gli ha fatto qualcosa Nella miglior cosa Che si possa fare Io ragazzi Non ho parole È stata una scena Sono un po' pure io Spaventato Nel senso Non proprio spaventato Però E niente Ragazzi Però poi pure lei sta incinta Questa cosa Che non è una cosa bella Non è proprio una cosa Non è una cosa bella E secondo me È un po' Ha un po' tanto esagerato È esagerato veramente Io ragazzi Sinceramente Direi che per oggi La live può finire qua È stata una live Molto molto lunga Io sinceramente Forse questa è stata la live La live Che La live Questo pezzo di gioco Che ho giocato Dalle Circa sei e mezza Adesso Non mi ricordo ben d'orario Sei sei e mezza Adesso che sono le Undici E cinquanta Praticamente Ragazzi Se volete Sono le undici e quarantotto Però Cioè Sono le undici e quarantotto Dalle sei e mezza Cioè Dalle sei e mezza Dalle undici e quarantotto È stata Diciamo Le mie Ore migliori Di gioco Cioè Questa parte di gioco È quella Che è la parte Che proprio Mi è piaciuta di più Anche L'ultimo avvenimento Non è stata Una Grande azione Cioè Non è stata Una grande Cosa Per Cioè Non è stata Non ho mantenuto Molto il controllo Ebbia Avrebbe potuto anche Non ammazzarli Tutti e due Benissimo Al massimo Poteva ammazzare Magari No no Però Non ho Se avessi saputo Che era incinta Magari anche lei Avrebbe fatto qualcosa Però Vedete che lei Era un po' Perso il controllo Io comunque Ragazzi Vi saluto Comunque Volevo Riferitervi Che Questa è stata Molto bella Queste Quest'ora di gioco Mi è piaciuto Come questo pezzo Di gioco Mi è piaciuto Veramente un sacco Molto 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 Bello Sì Cioè Sempre molto Aggressivo Mi è piaciuto Questa parte Ragazzi Mi è veramente Piaciuta Questo pezzo Di storia Che ho streamato Oggi Mi è piaciuto Veramente Tanto Anche il primo Ragazzi Premessa Mi sono piaciuti Veramente Tanto Tutti Ma questo È veramente Il migliore Cioè Gli altri Prima Mi erano sempre Piaciuti Tanto E sempre Piaciuti Sì Piaciuti Tanto Però Questo mi è Veramente Veramente Stupito Questo gioco Ragazzi Mi sta piacendo Veramente Tantissimo Credo che sia Uno dei migliori Giochi Credo che sia Uno dei giochi Con la migliore Storia E con Cioè Credo che sia Uno dei migliori Giochi a cui io abbia mai giocato Probabilmente Sì Credo che sia Uno dei migliori Giochi a cui io abbia mai giocato A livello di gameplay Della storia Anche che è molto bello Ragazzi Sto gioco Sto gioco è veramente Spettacolare Credo che sia Il mio Gioco Migliore A cui abbia mai giocato Ragazzi Io vi ringrazio Per aver guardato La live Noi ci vediamo Alla prossima O domani Alle 6 Oppure Sempre su O alle 9 di sera Perché oggi ragazzi Ho cominciato a streamare Prima Dato che Purtroppo I giorni scorsi Non sono riuscito A streamare Alle 9 Per esempio Ieri Oggi invece Ragazzi Abbiamo streamato Veramente Per tanto Perché comunque Ragazzi Avevo saltato Un giorno Di The Last of Us Comunque Già tanti giorni Avevo saltato Quindi Non ho cominciato A streamare Prima di conseguenza Io ragazzi Vi saluto Ci vediamo Alla prossima Probabilmente O domani O lunedì prossimo Vi invito A lasciare un like A questa live Ragazzi Per supportare Questa serie Che A me Almeno Sta piacendo Veramente Cioè Veramente Questa Credo Che sia Il gioco Il gioco Migliore A cui Io Abbiamo Giocato Quindi Per favore Mettete Un like Alla live Grazie Mille E magari Iscrivetevi E attivate La campanella Grazie Mille Raga Bella Vi saluto Raga Alla prossima